Non può rimarginarsi una ferita dove 13 persone della nostra comunità hanno perso la vita. Famiglie che sono distrutte, vite interrotte. Spero che tutto quello che si sta facendo potrà essere utile per non far verificare mai più fatti come questi. Rimarranno nella memoria dei marchigiani non solo le immagini dell'alluvione che colpì la nostra regione a cavallo tra il 15 e il 16 settembre 2022. Un evento eccezionale che provocò 12 vittime, una donna dispersa, 50 feriti, 150 persone sfollate e danni per diversi miliardi di euro. A un anno di distanza, questa mattina Palazzo Raffaello si è tenuta a una conferenza stampa per illustrare le attività messe in campo e gli interventi necessari per mitigare il rischio idrogeologico e costruire un futuro più sicuro. Questo anche grazie ai 400 milioni di euro stanziati dal governo Meloni per il triennio 2022-2024 che sono stati tutti impegnati. Inoltre è stato approvato il piano operativo del commissario da 106 milioni di euro riguardo le opere complesse per la prevenzione del rischio idrogeologico. Il lavoro che è stato svolto in questo anno non ha precedenti, ha spiegato oggi il governatore e commissario per l'emergenza all'uvione Francesco Acquaroli. Sono tantissime le risorse in campo grazie, ha detto, ad uno sforzo enorme del governo centrale che per la prima volta è intervenuto in modo così significativo. Altrettanto grande lo sforzo della regione che ha stanziato risorse proprie per circa 24 milioni di euro per la pulizia dei fiumi e per il contributo per automobili e furgoni danneggiati o persi. Nonostante i tempi burocratici, ad un anno di distanza c'è una mole di attività importanti che produrrà effetti rilevanti nelle valli del Misa e del Nevola e nel comprensorio del Catria, in termini di messe in sicurezza e ripristino della zona, mitigazione del rischio, manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua, oltre ad una significativa risposta infrastrutturale. C'è stata una prima fase d'emergenza dove occorreva mettere in sicurezza il territorio e ripristinare quanto era stato distrutto dall'alluvione. Lì ci sono stati interventi per 13 milioni di euro da parte della regione Marche, che è stato un intervento molto corposo in quelle primissime ore. Poi si è cercato di riprendere quello che era lo studio del 2016, che era stato solo dopo l'alluvione del 2014, c'è stato uno studio preliminare che prevedeva una serie di interventi strutturali che solo parzialmente negli anni sono stati realizzati. Quindi abbiamo ripreso quello studio, lo abbiamo ulteriormente ampliato, abbiamo provisto quindi la definizione di nuove vasche di espansione, oltre a quella di Bettolelle che stiamo, diciamo così, terminando, altre due vasche a monte di Passo Rip e a monte di Pianello d'Ostra, già finanziate e per le quali si sta procedendo con la progettazione, ma soprattutto in queste ore sono partiti lavori di straordinaria manutenzione all'interno del fiume Misa per 1 milione 800 mila euro. In queste ore ci sono sei ditte diverse che, proprio all'interno di Senigallia fino a oltre Pianello d'Ostra, fino ad arrivare al ponte di Ostra-Vetere, stanno ripulendo proprio complessivamente il fiume, ma stanno anche rimarginando gli argini, sistemando gli argini, là dove erano state, diciamo, delle situazioni di sofferenza, tanne di animali, ma anche proprio erosioni da parte delle correnti. Lavori assolutamente straordinari mai realizzati prima. In queste prossime ore, ma quando dico prossime ore dico domani o dopo domani, partiranno altre sei somme urgenze sul fiume Nevola, sul fiume Cesano e sul fiume Burano. Come dire, comprendiamo tutto quanto l'alvio di quanto era avvenuto, diciamo, il 15 settembre scorso. Questi nuovi interventi saranno pari a 1 milione e 600 mila euro, ugualmente di somme urgenze. In conclusione, il direttore della protezione civile delle Marche, Stefano Stefoni, ha ricordato che tutto il sistema di monitoraggio e allertamento è stato ripristinato, aggiornato e tarato in base agli eventi degli ultimi anni, che prima non si erano mai verificati con così forte intensità.